Sono qua all'ospedale, insieme a Polini Messon e Colone Dovenna. Non è il momento. Praticamente c'è stato qualche problema. Non mi piace queste cose. Qualche problema con... Non mi piace queste cose. Il nostro amico si è sentito male. No, non mi piace queste cose. Visto, stiamo... Non mi piace queste cose. Fabio, ho detto il cazzo! Non è il momento di dire cazzate. È il momento di piangere. Siamo praticamente in sala d'attesa, stiamo aspettando che il dottore ci dia informazioni. Ah! Si, potrei venire? Ah, ci ha chiamato. Ah, meno male. Allora. Come sta? Dottore, dottore. Buonasera. Buonasera, come sta il nostro amico? Allora, il suo amico sta bene, però le consiglio semplicemente di... Ha un semplice mal di parcia, solo che si è mischiato a qualcosa di brutto, tipo siccome mangiamo troppi panini, mi ha giocato un bambino che mi piace le cose americane. Aspettavo questa notizia. Allora gli è preso un mal di parcia e quindi sarebbe consigliabile prendere delle pasticche e dei pepe. No, 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 no. Caricomincina a cord. No, no, no. Dov'è, cazzo? Dov'è finito? Ecco, pepe. Dov'è il paziente? Vediamo? È qua. No, c'è qualche problema. Le pasticche, vai, aspetta. Ma sta malissimo però, eh. Sta cagando. Dottore, faccio qualcosa. Ma sta lì, si dà queste. Anche se non dovrebbe mangiarle così, dovrebbe... Ma ne mangio, me la tate così! Ma non è così, guarda, le vedi guarda. Ma perché... Scusi. Ma perché... Volevo fare una domanda, ma parte per il mal di quanto... Ma si può fare qualcosa per la disabilità? Perché il video si può vedere, cioè... Io ci leggo comunque, mia mia, se si potesse fare qualcosa... Non so se c'è modo... È una malattia. Non lo so. È una malattia. È una malattia grave, la disabilità. Si potrebbe tenere un attimo il reparto, se non so cosa dovrebbe fare... Ma essere il mongospastice è una malattia. Cioè... Andate via, andate via, andate via, andate via, andate via. Ma essere i mongospastici è una malattia grave? Chiuso in una stanza, via. Ma si può curare l'essere...